bentornato gutier bentornata andiamo avanti nella descrizione della sezione impostazioni di windows 10 è ora il momento di parlare della sezione account cos'è la sezione account è la sezione che ti permette di impostare gestire gli account per l'accesso al sistema operativo sia il locale che online tramite account microsoft e gli indirizzi email e sincronizzazione tra i vari dispositivi una bella sbossata sulle funzionalità di questa sezione l'hai già avuta per windows 7 nelle lezioni 97 98 con i video annessi e per windows 8 con la lezione 137 e video tutorial quindi come introduzione puoi andare a consultare queste lezioni come accedi a questa sezione dal pulsante start individua l'icona ingranaggio e nella nuova finestra vai a cercare la sezione account nella pagina che si presenta trovi le seguenti sottosezioni le tue info account email e per le app opzioni di accesso accedi all'azienda o all'istituto di istruzione famiglia e altre persone sincronizza le impostazioni la sottosezione le due info evidenzi il nome dell'account attualmente collegato e se sei collegato con un account locale oppure tramite account microsoft inoltre sei avuto accesso come utente di amministratore o utente standard da qui puoi scegliere un'immagine che rappresenti il tuo account tra i file presenti sul pc oppure se connessa puoi scattarne anche una in diretta tramite una fotocamera la seconda sottosezione mostra gli account accreditati per questo profilo per questo accesso indirizzi email registrati per l'account e per le varie applicazioni installate nel pc puoi anche naturalmente gestire quindi aggiungere o rimuovere tali indirizzi da questa sezione dalla sezione successiva puoi gestire le opzioni di accesso al sistema operativo come se hai una webcam attiva puoi sfruttare la potenza di riconoscimento visuale tramite la stessa oppure tramite lettore di impronte digitali con la funzionalità windows hello in pratica puoi configurarlo per accedere al tuo account con il lettore delle impronte digitali se installato o posizionandoli di fronte alla webcam se collima l'immagine del tuo volto con quello precedentemente memorizzato avrai accesso al sistema senza digitare nulla alternativamente puoi creare una password per accedere al sistema operativo o ancora un pin per l'accesso o l'uso delle applicazioni e dei servizi integrati ancora hai la possibilità di impostare una foto per accedere al sistema operativo eseguendo dei gesti su di essa sceglierai la foto e imposterai un movimento sulla stessa come disegnare cerchi linee rette e altre impostazioni all'accesso ti verrà presentata quella foto e dovrai ripetere i gesti che hai precedentemente memorizzato tramite un cursore puoi abilitare anche la visione dei dettagli dell'account nella schermata di blocco del sistema operativo quindi potrai visionare dati come nome indirizzo mail e altro avrai impostato nello stesso la successiva sottosezione non è molto utile in ambito domestico diciamo infatti è dedicata alla possibilità di connettere il dispositivo all'azienda o all'istituto per cui lavori connettendoti dovrai naturalmente inserire dei dati relativi all'account aziendale quindi le credenziali per l'accesso come ad esempio l'indirizzo mail e la password al vantaggio di poter accedere in remoto a risorse di rete o software dell'azienda si contrappone il potenziale pericolo che esse possono indagare su alcune cose all'interno del tuo dispositivo quindi a te la scelta se attivare o meno questo accesso la sottosezione famiglia e altre persone invece ti consente di aggiungere o rimuovere l'account d'uso al tuo pc creando profili dedicati con vari livelli di accredito se come amministratore oppure come utente standard in pratica creerai un account personale per i membri della tua famiglia oppure per terze persone con proprio relativo desktop dedicato per ogni utente che vorrai accreditare utilissimo quindi per non accavallare risorse ed uso di software installato nel sistema operativo potrai anche impostare delle limitazioni dei filtri per i bambini per tutelare la loro sicurezza nell'impiego del pc o nella navigazione nel momento in cui però vorrai rimuovere un account particolare attenzione prima di agire in quanto andrai anche a cancellare quindi rimuovere i dati personali come documenti foto musica e file in genere che sono presenti nelle cartelle dell'account che è stato creato all'interno del sistema operativo quindi questo che significa che sarà necessario prima esportare tali dati per non perderli quindi dovrai eseguire un backup nell'ambito della creazione invece limitata degli accessi tramite un pulsante chiamato configura l'accesso assegnato potrai impostare l'accesso al sistema operativo e l'utilizzo di una sola applicazione scelta tra quelle progettate proprio per questo tipo di accesso in pratica dovrai scegliere quale account accreditare con la relativa applicazione che gli assegnerai in questo modo l'utente potrà utilizzare soltanto questa applicazione nell'ultima sottosezione puoi attivare la sincronizzazione delle impostazioni del sistema operativo tra i vari dispositivi in tuo possesso quelli che naturalmente utilizzano lo stesso account e quindi windows 10 le impostazioni del browse i temi le password della lingua e altre impostazioni saranno quindi in comune tra tutti i dispositivi che avranno installato windows 10 eccoci alla pratica della lezione 185 andiamo ad individuare il pulsante ingranaggio e quindi la sezione account qui trovi evidenziata una immagine di rappresentazione con il nome e l'indirizzo email con cui sono accreditato e se ho funzioni di utente standard o amministratore puoi gestire tramite questo pulsante l'account microsoft quindi entrare nella pagina dedicata del server della microsoft e effettuare alcuni cambiamenti è possibile anche accedere con un account locale qualora tu non voglia utilizzare l'account microsoft ma in questo caso avrai delle eliminazioni qualora non ti piacesse volessi cambiare l'immagine e fosse collegata una fotocamera potrai attivarla e scattarti una foto in diretta oppure selezionare tramite questo pulsante una immagine una foto che ti rappresenta che è all'interno del pc la seconda sotto sezione account email e per le app ti dà la lista degli account che sono accreditati per questo profilo e per il sistema operativo potrai anche aggiungere un altro account microsoft inserendo le credenziali di questo altro account oppure aggiungere un account ai programmi installati nel sistema operativo naturalmente dovrai inserire le credenziali relative a questo account qualora tu voglia potrai anche cliccando sopra gestire l'account e eventualmente modificare alcune impostazioni oppure rimuovere lo stesso dal dispositivo eseguiamo appunto questa operazione la sottosezione opzioni di accesso ti permette se fosse possibile la gestione di windows e lo che tramite webcam o sensore di riconoscimento delle impronte digitali attivare l'accesso al sistema operativo senza digitare nulla potrai scegliere se eseguire questo accesso o mai oppure alla riattivazione del pc dalla sospensione in questo caso io non ho né una fotocamera installata né un rilevatore di impronte digitale alternativamente potrai inserire una password se non l'ha inserita oppure modificare la stessa da questa interfaccia ancora potrai aggiungere un pin per poter accedere al sistema operativo senza digitare altro quindi potrai cliccando su questo pulsante inserire il pin che più ti conviene con una conferma a quel punto all'accesso del sistema operativo tu dovrai semplicemente digitare questo pin per aver presentato il desktop c'è una procedura normalmente che ti permette di recuperarlo oppure se tu volessi potrai rimuovere questo pin previo inserimento della password di amministratore ecco qua oppure potrai ancora aggiungere una password grafica selezionando un'immagine dopo aver inserito la password di amministratore vai a scegliere l'immagine per l'accesso tramite foto scegliamo la nostra pasquina utilizziamo questa immagine a quel punto dovrai disegnare tre movimenti sull'immagine che possono essere di tua scelta o delle linee o dei cerchi che dovrai replicare ogni volta per l'accesso al sistema operativo dopo averli eseguiti dovrai replicarli per una maggior sicurezza al termine ovviamente avrai aggiunto questa grafica all'accesso del sistema operativo quindi anche se potrebbe risultare un po' ostica in tali casi può essere utile una volta inserita naturalmente potrai rimuoverla semplicemente un cursore della privacy se attivato ti darà la possibilità di visionare alcuni dati alcuni parametri nella schermata di accesso del sistema operativo l'altra sotto sezione accedi all'azienda o all'istituto di istruzione ti consente di connetterti tramite questo pc all'account aziendale o di istituto dovrai inserire ovviamente le credenziali per poter visionare in remoto alcune cose relazionate al tuo lavoro nell'azienda per cui lavori la sezione famiglia e altre persone ti permette di inserire un membro della famiglia come account di utilizzo del sistema operativo potrai scegliere se inserire un bambino o un adulto e inserire il rispettivo indirizzo mail quindi se non lo avesse potrai creare un account dedicato oppure potrai aggiungere una persona che non fa parte della famiglia che potrai utilizzare questo sistema operativo in maniera limitata è una semplice procedura guidata che ti permette di inserire alcuni dati altro pulsante presente configura l'accesso assegnato come detto nella parte didattica potrai assegnare un accesso limitato se vorrai ad uno degli account che avrai creato all'interno del sistema operativo in questo caso io non ne ho creato alcuno e una volta scelto l'account potrai selezionare da questa lista quale applicazione poter far utilizzare in maniera univoca dal tuo account appena creato ultima sottosezione sincronizza le impostazioni hai la possibilità tramite dei cursori di attivare la sincronizzazione se vorrai in maniera parzializzata o globale relativa a tutti i dispositivi che utilizzeranno windows 10 e a te accreditati con scelta relativa ai temi selezionati alle impostazioni del browser password preferenze della lingua accessibilità e altre impostazioni quindi potrai avere una semplificazione di utilizzo del sistema operativo qualora possedissi più dispositivi terminiamo qui la lezione nella prossima nuove ancora informazioni di windows 10 ora un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima iscriviti al nostro canale